Siamo qui nella foresta amazzonica per portare l'adozione scolastica di Maria, la madre di Andrea. Anche lei ha voluto contribuire in questo progetto adozione scolastica e grazie a lei questo giovane guardiano della biosfera inizierà a studiare. Dimmi quanto segno tienes? Lui ha sette anni e che grado vas? Seconda. E lui va alla seconda elementare. Dimmi che chiedi sei di grande? Lui vuole diventare pastore, un prete. Ben, dimmi che deporte ti gusta? Football, gli piace giocare a calcio. E se un dia va a venire tu madre Maria? La vanno a portare per la selva? Le vanno a fare conoscere a Picuruyaco. E tu conosci la selva di Picuruyaco? Sì. Nella cacra? Sì. E vanno a portare con suo hijo, suo hijo si chiama Andrea, suo hijo ha venito a Niquitos e lo vanno a portare a Andrea e a Maria per la selva. Dimmi, chiede salutare e aggredecer tu madrina Maria? Sì. Che chiede dirle? Grazie a tutti per conderti conto. Chiede. Maria come vedi è molto emozionato. Qui con noi c'è anche la mamma. Come si chiama tu mamma? Tania. Chiamiamo la mamma. Anche la mamma vuole salutarti e ringraziarti per questa adozione scolastica. Primeramente, signora Maria, darte las grazie per questi utili che le stai apoiando. Acà mi niño, Angelo Camilo. En nome di lui, in verità, io ti agradezco moltissimo. Moltissimo per questo appoglio che stai dando. E che ti posso dire che lo stai facendo. Che lo stai facendo durante tutto il tempo e durante tutti i anni che il Signor Jesucristo te preste la vita. Perché noi solo in questo mondo stiamo di pace. di noi non c'è nulla. E come le posso dire, oggi siamo qui, maggi siamo qui. E questo è tutto che ti posso dire, signora Maria. Grazie, davvero. E spero conoscerti e vete pronto qui a mia terra, in la selva, in Iquitos. E per fare passare insieme, di repente. Sì, vero. In il lago di Picuro. Grazie. Ciao, Maria. Ciao, Andrea. Ciao, Maria. Ciao, Maria. Ciao, Maria. Ciao, Maria.